burran finita per il bitcoin parliamo di bitcoin seconda analisi week numero 5 benvenuto e benvenuto a casa benvenuto alberto un abbraccio benvenuto a te benvenuto a te a casa benvenuto a casa ivan cosa dici burran già finita no 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 abbiamo sempre detto il contrario quindi andiamo a vedere se effettivamente c'è spazio per poter dire questa cosa se la burran è già finita perché comunque tanti ne parlano anche su youtube altri colleghi possono avere detto questa cosa vediamo se è vero o vediamo comunque le possibilità oltre a questo andiamo a vedere anche un'analisi sempre dei cicli del 2017 ci avvaliamo sempre di un collega della community inglese che è Red Capital ha creato un'analisi eccezionale quindi andiamo a vedere perfettamente questo e notizie oggi non ne vediamo andiamo direttamente sull'analisi tecnica e su una serie di elaborazioni anche legate al dollar index quindi stai con noi passiamo la parola allo sponsor della puntata di oggi Prime XBT la più potente piattaforma di trading che ti offre immediato accesso a più di 30 differenti asset su cui poter fare trading criptovalute forex indici azionari e tanto di più tutto da un unico singolo account denominato in bitcoin una possibilità unica di seguire traders esperti attraverso l'opzione di covesting molto interessante per i principianti o per coloro che vogliono guadagnare seguendo altri qui sotto ti lasciamo un tutorial sul covesting la registrazione è facile e non necessita di nessuna informazione personale permettendoti di poter iniziare a seguire altri trader velocemente iscriviti subito e approfitta delle promozioni che trovi qui sotto ottieni il 35 per cento di bonus sul tuo primo deposito con il codice crypto learners oppure il 25 per cento di sconto sulle fee usando il codice albi e ivan grazie a Prime XBT per sponsorizzare parliamo di bitcoin ok eccoci qua bentornato bentornata solito disclaimer doveroso nulla di quanto si parla e si parlerà in questa puntata di parliamo di bitcoin da considerarsi consiglio finanziario ma semplicemente condivisione di idee opinioni nostre di studi esperienza e di eventualmente notizie recepite dal mondo web bene andiamo di condivisione schermo condivisione intanto ringraziamo anche tutti i ragazzi nuovi e nuova nuovi e nuove che sono si sono aggiunti al canale tantissima gente si sta avvicinando a questo mondo cripto e il nostro canale è uno dei canali che sta crescendo più velocemente in questo momento quindi siamo assolutamente contenti e dobbiamo ringraziare te che ci segui per anche questo piccolo successo nostro quindi grazie grazie continua a mettere like diventa importante lo ripetiamo che controllate controlli in questo momento se sei sottoscritto se hai segnalato la campanellina all perché youtube in questi giorni non sta mandando a tutti le notifiche quindi guarda che sia all evidenziato per ricevere ogni singolo aggiornamento che noi di crypto learners mettiamo a disposizione vai yes allora andiamo a vedere direttamente mercato in generale delle criptovalute vediamo di sotto sempre le prime 100 per capire cosa è successo negli ultimi 24 ore cosa sta accadendo nell'ultima ora bitcoin praticamente è fermo meno 0,1 per cento non è una variazione negativa ethereum leggermente positivo anche questo diciamo entrambi sono fermi attenzione let's go ethereum tether è leggermente al di sotto di un dollaro tienilo lì perché tra un attimo andiamo a vedere una cosa su tether poi polkadot polkadot continua a generare interesse nonostante sia bitcoin che ethereum abbiano stornato e siano fermi c'è in link c'è in link e ripartita ha fatto un bullish retest in questi giorni e sembra che sia pronta a ripartire abbiamo parlato ieri nella news letter si proprio al rapporto con bitcoin quindi vediamo interessante molto interessante link nelle prossime settimane inizio mese esatto esatto stella stella anche è positiva da ieri ave che in questi ultimi giorni infatti vediamo il 40 per cento in più questa settimana anche uniswap nonostante in questo momento sia abbia un segno negativo ha fatto un bellissimo 50 per cento da dall'ultima settimana e sono aumentati notevolmente sono aumentate notevolmente le transazioni su uniswap perché perché si sta spoileriamo spoileriamo si sta ritornando si sta ritornando molto sulla defy e stiamo preparando la puntata di sabato prossimo che sarà live vediamo se tre mezza tre tre mezza più o meno quell'orario lì quindi segnatela comunque avremo modo di avvisarti prima dove andiamo a ragionare sulle transaction fee cosa sono quanto si pagano mediamente chi le incassa e soprattutto quali sono i progetti che incassano particolarmente fee e di conseguenza possono essere interessanti per il futuro e non diciamo altro bene continuiamo così dogecoin wow cos'è stato un altro pompaggio di tiktok si 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 tiktok in questo momento si sta divertendo con dogecoin elrond però chi ci segue ha già capito che non siamo dei gran fans no 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 di dogecoin terra torchain ok fondamentalmente con rispetto ovviamente a tutti swissborg ne abbiamo parlato mesi fa in una puntata dove abbiamo nominato 3 3 coin interessanti eravamo in estate swissborg era una di queste ha performato tanto nell'ultimo periodo e sta continuando a performare molto interessante anche qua scusa se ti interrompo apriti il grafico un anno ce l'abbiamo consigliata nelle nostre 25 al coin swissborg è la miglior performante dal 9 luglio ad oggi ha fatto numeri circensi e dall'inizio dell'anno più 2000 e 33 per cento per cento si non mi ricordo se era giugno o luglio quando ne abbiamo parlato luglio il 9 luglio abbiamo fatto le prime 25 al coin quindi i primi giorni di luglio è dove abbiamo parlato nel nostro canale di swissborg si è stata dormiente per un po' di tempo e poi da dicembre ha performato in maniera pazzesca veramente pazzesca perché ci sono dei fondamentali importanti stanno un team che sta lavorando veramente molto bene questo è il concetto allora già che siamo qua approfitto per andare a vedere tether usdt no sto sbagliando che ti interessa di tether? allora tether è un ottimo indicatore così come anche dell'aperto sì come use dollar coin cioè gli stable coin sono interessanti da vedere perché sono il portale di accesso nel mondo cripto quindi soprattutto bitcoin ethereum ma anche altcoin del denaro fiat e come avevi accennato tu tempo fa quando vediamo il prezzo di tether che è leggermente al di sotto del dollaro contando che è uno stable coin quindi ballerà sempre intorno al dollaro ma quando è leggermente al di sotto vuol dire che se ne stanno producendo quindi minando di più ok? come si fa vedere basta andare a vedere la capitalizzazione di mercato capitalizzazione di mercato prendiamo gli ultimi 180 giorni se il trend non lo so fosse in crescita potrebbe essere che stanno arrivando soldi che stanno arrivando soldi ovviamente ci interessa più a breve prendiamo 30 giorni quindi nell'ultimo mese si è stabilizzato però si continua comunque da inizio mese quindi dal primo gennaio c'erano 21 miliardi di tether in circolazione in questo momento ce ne sono 25 miliardi è vero che possono essere passaggi da bitcoin o ethereum su tether momentaneamente parcheggiati in attesa di rientrare da altre parti o di rientrare su bitcoin e ethereum oppure possono essere anche nuovi coin creati quindi appoggiando denaro fiat dollari euro quello che è per poi creare nuovi tether possono essere entrambi un indicatore sicuramente è che quando questo livello aumenta notevolmente c'è da aspettarsi un pump del bitcoin o di altro prezzo del prezzo in generale detto questo questo è leggermente bullish ritorniamo sul fatto vediamo se la nostra bull run è terminata per rigore di cronaca dobbiamo esaminare tutto aspetti positivi e aspetti negativi partiamo da un aspetto vediamo il grafico come sempre del nostro bitcoin visto dall'alto quindi trend time frame mensile ovviamente parliamo di macro trend e trend ovviamente in crescita c'è un ma è un però a breve se così possiamo permetterci di dire che siamo sempre su giorni time frame mensile c tre giorni perché sta per finire il mese abbiamo una candela che è veramente ma veramente molto brutta non è carina come grafico mensile questa shooting star se non vado errato si dimostra che si il prezzo è arrivato a 41 mila 41 mila e oltre se lo vediamo con precisione 41 ss 42 mila ho toccato proprio 42 mila poi è stato rigettato quindi forte pressione da parte dei bear nel rimandare il prezzo giù solitamente una candela di questo tipo denota un'inversione di trend soprattutto quando è appoggiata da una differenza di volume notevole rispetto ai mesi precedenti c'è da dire che c'è molto volume ma non c'è una differenza di volume così importante rispetto ai mesi precedenti poi dipende ovviamente dall'exchange su b stamp c'è un po' di differenza su altri exchange ce n'è addirittura di meno quindi questo è un grosso campanello d'allarme precisiamo Ivan la nostra bias è sempre bull sempre positiva non perché noi siamo positivi come persone ma perché siamo in un momento del macro ciclo nell'anno in cui bitcoin raggiunge i massimi storici del ciclo cicli di 4 anni ricordiamo abbiamo fatto una puntata lunedì sabato scusa una puntata la linkiamo qua è fondamentale da vedere i macro cicli del bitcoin perché ti daranno una chiarezza veramente impressionante su come funziona il bitcoin e di conseguenza perché parliamo di bull run al di là dell'analisi tecnica quindi rotture di determinati livelli che innescano la bull run ci sono proprio dei fondamentali tecnici legati a come funziona il bitcoin che si allinea con quelli che sono gli alvin quindi cicli di 4 anni però sì dai questa candela mensile sarebbe meglio se si riempie un po più di verde non rimane così tanto lo stoppino sopra mese di febbraio assolutamente interessante dove bisogna essere pronti a tutti e due gli scenari come diciamo sempre noi perché questa è la bravura questo è quello che abbiamo imparato a non tenere gli occhi chiusi di fronte a un possibile strumento di ristorno un possibile abbassamento passatevi il termine abbassamento del prezzo quindi non bisogna essere ma solo su ma solo su non è così è ciclico bisogna essere pronti e sapere come sfruttare queste opportunità perché anche qua lo scopriremo presto ci sono delle opportunità quindi prima di andare a svelare i time frame più bassi e vedere anche a breve cosa può capitare ritorniamo se sei d'accordo Ivan andrei sulla parte della newsletter di Red Capital quindi rimaniamo sul macro ciclo eccoci qua ci avvaliamo ancora una volta di Red Capital quindi grande stima nei suoi confronti nell'ultima newsletter ha analizzato alcuni fatti riguardo le correzioni del bitcoin quindi andando proprio a mettere nel dettaglio questa parte finale del ciclo che si è ripetuta cioè che si sta ripetendo oggi e l'ultima volta che è avvenuta è stato nel 2017 quindi è andata a analizzare l'intero anno 2017 vediamo alcuni alcuni punti poi apriamo il grafico un pochitino più in grande cosa dice in un uptrend quindi un trend bullish le fasi di rialzo sono più lunghe che non le correzioni le correzioni sono più ponte in ogni quarto questa è importante l'analisi dei quarti perché ci arriveremo sempre più spesso soprattutto quest'anno e negli anni a venire dato che stanno entrando sempre più aziende in bitcoin e le criptovalute e le aziende che siano fondi di investimento o aziende ragionano a quarti questo è forno a giorni quindi ogni quarto ha visto almeno una correzione del bitcoin molto forte e addirittura alcuni quarti hanno visto più di una hanno visto due correzioni l'unico quarto che ha visto una sola correzione è stato il secondo quarto le correzioni tendono ad essere all'inizio più vicine all'inizio e alla fine del quarto e cosa importante le percentuali delle correzioni questo lo vediamo tra un attimo quindi apriamo il grafico in grande per capire ecco questo non è per mettere paura a te che ci segui è per farti prendere coscienza che quello che sta avvenendo è qualcosa di normale sentire nella rete la burrana è finita per un semplice importante ma semplice 30% di distorno quando il bitcoin nell'ultimo due mesi è raddoppiato mi fa sorridere perché perché bisogna conoscere assolutamente queste cose o perlomeno sapere che ci sono questi momenti e facciamo altra roba in questi momenti che aspettiamo che riparta no? bravissimo esatto quindi suddiviso 2017 in quarti eccolo qua primo quarto secondo terzo e quarto come abbiamo appena detto nel primo quarto ci sono state due fasi di correzione vediamo le fasi invece di guadagno le fasi bull all'interno del quarto sono sempre 1, 2, 3, 4, 5 più lunghe delle fasi di correzione le fasi di correzione sono sempre più corte molto violente in breve tempo ma più corte dopo vediamo anche le percentuali le correzioni sono sempre o almeno sono sempre state in prossimità dell'inizio o della fine del quarto questo è molto interessante ed è tipico dei quarti l'unica eccezione è stata questa qui siamo proprio nella fase finale estrema della fase parabolica quante sono state le correzioni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 questa non la conto non la voglio contare è all'interno di un quarto quindi 7 però qui la fase bull il ciclo era già terminato è terminato a dicembre invece che a inizio dicembre 17 dicembre invece che a fine 17 mesi dopo l'albing giusto? bravissimo il formule 17 mesi dopo l'albing bene andiamo a vedere le percentuali di correzione 34%, 35%, 38-80%, 39-31 questa non la contiamo perché era già finita la bull run quindi sono sempre andate dal 31 al 39% quindi mediamente dal 30 al 40% la domanda è potrebbe già essere finita questa correzione? potenzialmente sì perché ha fatto un 31% quindi è già una correzione importante potrebbe arrivare anche fino al 39-40 quello senz'altro è all'inizio di un quarto? assolutamente sì proprio la possiamo paragonare a quella di inizio gennaio il che potrebbe far pensare far dedurre che finita questa correzione che sia finita oggi che sia finita tra una settimana, due settimane, tre settimane ci aspetta una fase di crescita per poi avere un'ulteriore correzione alla fine o inizio del prossimo che non è detto che avvenga no? non è detto che avvenga perché? questa è un'analisi poi dall'analisi del 2017 possiamo trarre delle conclusioni non è detto che avvenga esattamente così è un'ipotesi che prendiamo in considerazione quindi questo per capire ancora una volta come funziona la parte finale del ciclo del bull run e le correzioni che avremo quindi anche se questa correzione oggi fosse finita e la bull run continua ad andare avanti avremo altre correzioni quindi preparati se questa sarà finita così al 31% potremo avere delle correzioni anche più importanti fino al 40% quindi preparati bene torniamo sul nostro grafico l'abbiamo già detto 3-4 volte nelle ultime puntate le correzioni esistono le abbiamo già viste perché sappiamo che c'è tanta gente nuova non vogliamo essere ripetitivi vogliamo aiutare le persone che in questo momento sono più spaventate meno preparate perché è quello che è accaduto a noi e quindi non vogliamo che accada a te semplicissimo esatto allora continuiamo ad insistere su questo tasto proprio per contribuire a crearti consapevolezza tutto qua se ti piace il mondo delle cripto devi vivere anche con queste cose non solamente più 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 verde 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 questo fa parte di questo bellissimo mondo quindi conoscilo e vivrai molto meglio esatto ok lo sguardo a breve time frame 4 ore allora sappiamo che c'è questa adesso non l'ho non l'ho più disegnato meglio l'ho cancellato c'è questo temibilissimo triangolo discendente che si è creato addirittura c'è chi inizia a delineare anche un sì un altro tipo di un altro tipo di un altro tipo di pattern ho visto anch'io sì che si chiama descending wedge e questo nella realtà è è una cosa buona più bullish questo è molto più bullish eccolo qua ci porterebbe fino eventualmente a fine febbraio vediamo se rimane dentro lì ah se rimane dentro qui bravo sì inizio febbraio intorno ok intorno al 7 8 di febbraio senza andare tanto più sotto di dove è andata fondamentalmente in questo momento che ci ha già rimbalzato una due tre quattro cinque volte sì e in caso di rottura metti che dovessimo arrivare a una rottura tipo il primo febbraio eh porterebbe il prezzo a un 40.000 dollari e attenzione se questo dovesse cadere è un è un minimo di fanta di fanta criptoscienza eh perché stiamo già andando su uno scenario un pochettino fanta criptoscienza fanta criptoscienza esatto eh Asimov ci fa un buff praticamente su queste cose qui porterebbe in caso di rottura di questo pattern nuovo che si sta creando ehm che ricordiamolo è prevalentemente più bullish che non bearish intorno ai 40 41.000 e guarda la superaliena bella resistenza c'è proprio una bella resistenza e mi pare che ne abbiamo parlato nella volta precedente questo è un range tra i 29.000 e i 39.000 e i 40.000 ideale per il bitcoin dove rimanere per un po' di tempo ok anche se non parte verso nuovi oltre i mai va bene innescherebbe un altcoin season di dimensioni passami in termine bibliche poi magari non è così perché quella di dimensioni bibliche molto probabilmente sarà alla fine della Burran alla fine tra settembre e dicembre sicuramente dà spazio a polka voglio giocare un pochettino anch'io a parto con la dimensione biblica però c'è questa possibilità se si protrae per tutto il mese di febbraio non lo diciamo sempre ma tutti che ci seguono lo sanno i soldi dormono poco quindi se il bitcoin rimane in un range si va a cercare qualcos'altro che rende un po' di più quindi le altcoin in questo momento che hanno perso tanto negli ultimi tre anni sono un ottimo risk reward per l'investitore preparato quindi possibile scenario noi avevamo detto proprio inizio gennaio se rimane dentro qua quando parlavamo in una puntata di altcoin season dicevamo proprio se rimane in questo range sarebbe perfetto per le alt guarda qua è passato infatti tante si sono si sono apprezzate proprio a confronto bitcoin esatto esatto è la condizione ideale per per far decollare definitivamente le altcoin premesso che tante sono già partite nelle ultime due settimane e inevitabilmente da bearish siamo passati di nuovo ad essere ad essere bullish perché quello è dentro di noi è dentro di noi esatto esatto no in realtà siamo estremamente cauti se tu mi dovessi fare la domanda Alberto sei bullish a breve o bearish in questo momento sono 50 neutrale neutrale vedo vedo comunque mia opinione poi può capitare di tutto no financial advice secondo me il prezzo nelle prossime ore barra giorni andrà verso il la parte superiore del canale discendente quindi intorno ai 34 euro secondo me non ci sono di la verità settaggi per entrare con con rotture di supporti resistenze pattern in questo momento è sempre meglio aspettare in questa fase è meglio aspettare e cercare opportunità altrove se non questo bellissimo double bottom esteso che si è creato quindi qui c'è un bottom qui un altro double bottom qua esteso ancora più grande e un micro double bottom qui all'interno e non mi stancherò mai di ripeterlo statisticamente bitcoin quando fa queste cose qua almeno almeno una una risalita caccia spolla a testa si la fa non dico che vada verso questa resistenza magari ancora è presto però a breve vedo un 33 8 34 io non vedo se posso dire la mia opinione non vedo che va a ritestare quella dei 39 perché il ritest l'ha già fatto subito dopo il primo crollo è andato immediatamente a ritestare quella resistenza quindi nel momento in cui gli si avvicina secondo me la sfonda va passa gli all time high e va senza neanche senza neanche accorgersi ci sta dai faccio il tifo perché bitcoin possa rimanere in questo range di cui vi ho parlato prima per almeno un paio di settimane ancora mi farebbe mi farebbe piacere quindi oltre alla fanta criptoscienza mettiamo anche le letterine di Natale le letterine esatto a papà bitcoin papà cripto vediamo Zio Ethereum Zio Ethereum altre cose su BTC Albi ah dovevamo vedere la divergenza RSI bravissimo bravissimo allora intanto oltre alla divergenza RSI inizia ad esserci una certa prevalenza di short e questo è sempre positivo come più volte abbiamo ricordato meno positivo è invece lo vediamo al volo l'indice Fear and Greed Index anche se si è si è un po' resettato alcune settimane fa era estremi extreme greed ma violento super verde qua adesso siamo un 55 91 guarda 91 poi tornati indietro basta che basta che bitcoin fa un uno schizzetto verso l'alto subito anche ieri eravamo extreme greed un'altra volta queste sono le cose che danno possibilità di fare poi long squeeze short squeeze si passa da troppo velocemente secondo me ma questo è il mondo mondo cripto cioè grande grande emozione grande emozione allora invece per quel che riguarda RSI puliamo un po' non traccio nulla ma semplicemente lo possiamo vedere allora in termini di però qui abbiamo un trend in disceso ovviamente in distort per l'RSI qui abbiamo un trend invece in salita leggermente in salita questo lo possiamo anche tracciare si bravo traccialo così quando era quello lì il 22 22 si e invece rispetto al 22 ieri ha fatto un quindi rispetto alla discesa esatto qui abbiamo una divergenza questa è la tipica divergenza c'è solo sul 4 ore per adesso di solito le divergenze sono molto più potenti quando sono sia sul time frame ora 4 ore e daily però intanto intanto c'è inizia a manifestarsi nei piccoli time frame che poi si trasforma e quindi lì è proprio una bene 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 ok ethereum ethereum vediamolo contro btc anche assolutamente si lo vediamo contro btc ethereum non sta facendo nulla di che negli ultimi giorni in ultime ore però è in un trend potrebbe aver creato un altro basso 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 più alto bravo bravo un higher low esatto e continua a confermare questo canale scendente che abbiamo visto poi fondamentalmente si sta creando anche un bullish flag qua vediamolo un attimo così e qui mando un'altra letterina letterina babbo natale babbo critto letterina si eccolo qua oggi siamo in vena di letterine si letterine esatto potenziale bullish flag che è bullish rottura si rompe qua adesso poi in realtà non farebbe altro che andare verso la parte superiore del canale scendente intorno ai 1500 è comunque interessante anche per real coin non vedo ancora brevissimo un pump di un'accelerata magari mi sbaglio vediamolo meglio sul sul ethereum contro bitcoin potrebbe materializzarsi all'inizio della prossima settimana che siamo all'inizio del mese è finito questo mese di gennaio le scadenze temute del 29 se ne sono andate delle opzioni eccetera eccetera e il ritest bullish ritest della neckline lo ha fatto e lo sta facendo il quarto giorno in effetti il 26 gennaio è stato proprio dove ha toccato il punto più basso proprio un retest noi abbiamo disegnato un cluster più molto ampio però già già qui comunque lo ha toccato quindi è un retest questa invece è una cosa che può far presumere una partenza di ethereum invece chiaro però sono d'accordo con te la vedo la vedo la vedo più da lunedì prossimo da lunedì prossimo tanti movimenti la coppia ethereum btc li ha fatti durante il weekend quindi sabato e domenica le ultime due spintoni chiamiamoli così li ha fatti proprio di sabato e domenica però siamo vicino a fine mese da 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 quindi mi aspetto che rimanga lì magari rimanesse lì per me è bullish cioè mi apre le porte a un'estensione ulteriore e gli 0.50 come indicavamo nella newsletter ieri 0.50 0.55 potrebbe essere un bel target quello è il prossimo target prossimo target di ethereum 0.50 contro btc contro bitcoin contro btc chiaro e ricordiamo che c'è questa gigantesca collo e spalle inversa che si è creata dal 2017 ad oggi che se dovesse come abbiamo detto all'inizio eccolo lì quella è la calamita 0.55 esatto questo è potente e secondo me ha tutte le possibilità ha tutte le possibilità anche perché fa proprio se regge come supporto il prezzo viene richiamato dalla calamitona e poi vedremo al di là della narrativa come abbiamo detto in una puntata precedente che sta passando di mano su ethereum e sulla defi poi vedremo sabato assieme legato anche il concetto di fee transaction fee delle cose interessanti per capire la grande potenza di ethereum quindi un'altra spoilerata bene bene andiamo a vedere il dollar index prima di chiudere andiamo a vedere il dollar index che è importante buttiamo un occhio anche sulla dominance prima del dollar index la dominance sì la dominance è lì sta consolidando anche la dominance andiamo sul daily con la dominance ecco vedi ho fatto dieci giorni belli giù e adesso è lì che sta un po' respirando dove stava respirando poi tempo fa sì esatto potrebbe potrebbe fare un altro un altro leg down che apprezzerebbe poi alla season eccetera eccetera e deve incastrarsi un po' tutto come diciamo sempre non è facilità di trasmettere le info però è che deve avvenire tutto insieme anche l'index il dollar index deve alla fine invertire quella rotta che ha preso perché mentre ovviamente la crypto total market cap escluso bitcoin continua a continuare a salire ovvio anche in funzione della dominance allora andiamo sul nostro dixie dollar index e ricordiamolo per i nuovi il principalmente il tutto è scambiato in dollari bitcoin dollaro ethereum dollaro che sono un po' il punto di riferimento pochi usano e lavorano su copie tra btc e ethereum eccetera eccetera importante è sapere anche cosa fa il dollaro perché se il dollaro è forte molto probabilmente non vedremo dei grandi guadagni del bitcoin ma non solo del bitcoin di tutti gli asset quindi la borsa l'oro le commodity che accelerano velocemente quando abbiamo l'ideale avere un dollaro debole esatto per tutto il resto correre verso l'alto il dollaro in questo momento si sta riprendendo un po' anche se appena stampano gli altri 3 trilioni c'è un destino unico secondo me non avevo preparato questa cosa perché io in effetti non ci guardavo da un po' di giorni al dollar index me ne hai me ne hai menzionato tu prima prima di iniziare a girare la puntata allora alcuni alcune settimane fa avevo delineato questo canale discendente di lungo periodo del dollar index con canale discendente spesso volentieri viene rotto verso l'alto il target è l'ampiezza del canale ho tracciato questo target e guarda caso il 18 gennaio aveva toccato questo target poi si è indebolito il dollaro adesso è ritornato quasi a testare quel target vediamo come va nei prossimi giorni se rimane così è perfetto perché va a fare un double top però più basso e quindi se inverte in questo momento la tendenza sarà di indebolimento e ci sta favorisce poi favorisce quindi stocks favorisce oro favorisce tutte le cripto ed è poi se vogliamo anche una possibile conseguenza del prossimo stampaggio di denaro che avverrà proprio brevissimo imminente imminente bello bello tutta una serie di scenari che si vanno a incastrare e ci sta ci sta un po' tutto montagna di informazioni anche oggi alcune volte ci scrivono ah sono tante le informazioni ovvio sono 40 minuti cerchiamo di dare quello che secondo noi nel breve periodo può essere più interessante però sempre tenendo d'occhio l'errore che abbiamo commesso noi nel 2017 che ragionavamo troppo a breve periodo a oggi domani dopo domani allunghiamo un attimo la nostra visione ed ecco perché cerchiamo ogni singola puntata anche allungandoci con i tempi di portare sempre qualcosa che vi fa allungare la vostra prospettiva grazie mille per averci seguito grazie mille Albi schiassaci questo like contribuisci al lavoro che stiamo facendo condividi il video qualora hai trovato contenuti che ti siano piaciuti iscriviti se non sei ancora iscritto o iscritta grazie per seguirci e per essere qua vai ricordati e lascia sto like metti sto like ciao ciao ad Alberto e Ivan di Crypto Learners alla prossima mi raccomando sabato puntatona importantissima like grazie a tutti i nostri spettatori